L'unica cosa che mi permetto di dire è, se io ho mille lire, io devo fare con mille lire e devo dire alla gente che devo fare con mille lire. Stop, finito. Credo che poi alla fine, se tu sei questo, la gente verrà allo stadio e ti accompagnerà perché saprà che tu stai facendo un sacrificio con quello. Finito, stop.